In questo momento così buio, questo film e le gesta di quest'uomo possano rappresentare uno spicchio di luce. Il cinema italiano è stato protagonista anche a Milano al Festival Filmmaker, inaugurato da Alice Rorvacher con La Chimera. Tanti videomakers continuano il loro lavoro, come Francesco La Rosa, recentemente premiato per il montaggio del documentario Umanamente Totò, poi il comico, di Alberto De Marco. Proprio Alice Rorvacher ricorda l'importanza della libertà espressiva dei cineasti indipendenti. La bellezza del cinema dei grandi autori è stata la capacità anche di inventare nuovi percorsi per raccontare le storie.